Musica Ben trovati al TG6 L'Aquila, oggi apriamo il telegiornale parlando di ricostruzione del catere sismico tutto fermo dopo la scadenza del contratto al titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione del catere Paolo Esposito dal primo dicembre è stata bloccata l'erogazione dei fondi per la ricostruzione nei centri storici dei comuni un impasse che soltanto il Ministro e il Governo potranno sbloccare Giorgio Alessandri Solo qualche giorno fa avevamo preconizzato un blocco dell'intera attività di ricostruzione nei comuni del cosiddetto catere sismico non ci è voluto molto per essere facili profeti di ciò che si stava verificando con un blocco dei finanziamenti e delle pratiche scattato dal primo dicembre Da quel giorno infatti il titolare dell'USRC, ovvero l'ufficio speciale per la ricostruzione delle catere Paolo Esposito non ha l'autorità per firmare provvedimenti dispositivi in quanto il contratto scaduto il 30 novembre non è stato rinnovato né tantomeno è stato individuato un suo sostituto Stop quindi all'erogazione di fondi nonostante la macchina sia rodata e per quanto possibile continua a lavorare nonostante manchi la benzina ed il pilota si ferma i box Le istruttorie delle pratiche quindi vanno avanti con il personale al lavoro negli uffici di Fossa quartiere generale dell'USRC ma di soldi neanche a parlarne Fino ad oggi sono 45 su 55 complessivi i piani di ricostruzione autorizzati per la rinascita dei comuni del cratere e di quelli che non vi sono ricompresi per una programmazione di quasi 3 miliardi di euro a fronte di una previsione di spesa complessiva di 3 miliardi e mezzo decine inoltre sono gli interventi di edilizia pubblica nelle scuole autorizzati mentre ad oggi sono quasi 300 i cantieri attivi in tutta l'area del cratere sismico numeri importanti che gli amministratori locali sperano convincano un ministero e governo a firmare il provvedimento di proroga di Esposito manager di origine bruzzesi alla guida dell'ufficio speciale dal 2012 quando la struttura fu creata dal governo dell'epoca guidato da Monti e ora alla cronaca parliamo della truffa ad un anziano due uomini e una donna italiani hanno truffato un anziano di civita di bagno una frazione a pochi chilometri dell'Aquila portandoli via i mille euro di pensione per raggirare l'anziano i tre si sono finti poliziotti sentiamo sono sempre più sofisticate e diremmo noi studiate le truffe che vengono messe a segno ai danni degli anziani l'ultima solo in ordine di tempo è quella registrata ad un'ultraottantenne di civita di bagno frazione situata a pochi chilometri dal capoluogo l'uomo è stato raggirato da tre persone tutte italiane due uomini e una donna che con modi rassicuranti ed affabili si sono intrufolati in casa spiegando che stavano indagando su una serie di furti avvenuti in zona chiedendo se avesse avuto episodi spiacevoli e dimostrare i soldi della pensione i truffatori che si sono spacciati per agenti di polizia in borghese sono entrati grazie alla chiave di casa lasciata nella serratura esterna dell'abitazione con suetudine che soprattutto nei piccoli paesi continua ad essere in uso nonostante i tempi non siano più quelli di una volta tutto si è consumato in pochi istanti con i finti agenti che hanno sfilato con destrezza i circa mille euro di pensione dalle mani dell'uomo che si è reso conto troppo tardi del raggiro quando ha realizzato che in realtà i tre individui non erano poliziotti questi avevano già lasciato l'appartamento chiudendosi la porta alle spalle immediata la segnalazione alla polizia quella vera stavolta che dopo essere intervenuta sul posto ha effettuato i rilievi per cercare di risalire all'identità dei truffatori che per il modus operandi messo in atto e la destrezza con cui hanno messo a segno il colpo si sospetta stessero pianificando il blitz da molto tempo i consigli delle forze dell'ordine sono sempre gli stessi non aprire agli sconosciuti non lasciare la chiave nella serratura e soprattutto segnalare movimenti sospetti e ancora cronaca avevano programmato un doppio colpo nei centri commerciali abruzzesi le tre persone denunciate dalla squadra mobile dell'Aquila per furto aggravato possesso di arnesi atti allo scasso e delusione dei sistemi antitaccheggio i tre, due donne ed un uomo già noti alle forze dell'ordine insieme al figlio di appena un anno di una delle due donne hanno rubato prima il punto vendita media il media award del centro commerciale Marzi di Avezzano e venerdì hanno tentato di replicare il media award del centro commerciale L'Aquilone dell'Aquila l'ha detto alla sicurezza del negozio ha allertato il 113 dopo essersi insospettito ha inseguito i tre fino al parcheggio riuscendo a scrivere però la targa dell'automobile con la quale si sono dileguati poco dopo la vettura all'altezza della statale 17 è stata avvistata e fermata da una pattuglia della squadra mobile il veicolo è il risultato sprovvisto della copertura assicurativa mentre l'uomo alla guida era privo della patente perché revocata assieme ad un'altra volante tutti i fermati sono stati condotti in un ufficio dove dal controllo emerso come i prodotti che avevano in macchina erano frutto della refurtiva due playstation in particolare in macchina c'erano anche due tenaglie da scasso un tagliaunghie una calamita per sbloccare le placche antitaccheggio un cacciavite e delle placche antitaccheggio alcune delle quali occultate anche nelle mutande di una delle due donne gli accertamenti sulla merce del valore complessivo di 800 euro hanno permesso di riscontrare che questa era stata trafugata al centro commerciale I Marzi di Avezzano e ora saliamo a Campo Imperatore buona la prima ma male i servizi circa 200 i passaggi in funivia ma zero servizi per i turisti ancora chiusi infatti rifugio bar ed albergo il servizio manca ancora la neve ma arriverà e tutto sommato nel primo giorno di apertura degli impianti sciistici di Campo Imperatore il bilancio non è affatto negativo sono stati più di 200 i passaggi segnalati degli amanti della montagna nella funivia del Gran Sasso in una giornata decisamente gradevole anche dal punto di vista climatico un'apertura limitata con sole piste aperte genziana e mirtillo rese perfette dagli operai che nei giorni scorsi si sono adoperati con i mezzi per renderle fruibili la nota stonata come avevamo già detto qualche giorno fa è rappresentata dai servizi panorama mozzafiato a parte chiusi ancora il rifugio delle Fontari bar e albergo dunque per chi scia ma non solo nessun servizio a disposizione nota positiva comunque la riapertura del rifugio di Monte Cristo con la nuova gestione dell'imprenditore Ivan Guetti già proprietario dell'hotel Cristallo alla Villetta e ad ogni modo anche l'albergo a breve dovrebbe riaprire le sue porte fatto sta che nella giornata di ieri tutto questo è balzato agli occhi dei turisti che per la verità hanno avuto qualcosa da ridire anche sui prezzi due piste aperte e 26 euro di giornaliero nasce il distretto rurale dell'Abruzzo interno il protocollo d'intesa verrà firmato il prossimo 9 dicembre nell'ambito di un convegno organizzato all'Aquila nella sala Tuglio De Rubessa Villa Gioia sede del comune dell'Aquila il distretto rurale riconosciuto dalla regione Abruzzo costituirà una società di gestione con gli operatori privati per redigere poi il master plan per lo sviluppo si tratta lo ricordiamo del primo distretto rurale in regione e ora parliamo di cinema da domani parte l'Aquila Film Festival che durerà sino al 18 dicembre nell'editorium del Parco del Castello quest'anno due giornate saranno dedicate interamente al cinema e al giornalismo il 10 e il 12 dicembre sulla formazione obbligatoria il presidente dell'ordine dei giornalisti Stefano Pallotta dice che i giornalisti abruzzesi hanno un piccolo primato rispetto infatti ai colleghi italiani sono in linea con i crediti sentiamo per il primo anno l'Aquila Film Festival che inizia domani e andrà avanti sino al 18 dicembre ha dedicato una sezione speciale al giornalismo due giorni di proiezioni e dibattiti sul tema cinema e giornalismo valide anche ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi dell'ordine professionale il primo appuntamento è il 10 dicembre il secondo il 12 dicembre allora la mattina del 10 abbiamo un corso un seminario sul data giornalismo cioè sulla possibilità che attraverso i dati della rete si possano trovare anche elementi utili per la nostra la nostra professione il pomeriggio invece analizzeremo il rapporto tra giornalismo e magistratura lo faremo con dei colleghi di caratura nazionale che comunque sono impegnati per i loro con i loro mezzi di informazione a seguire attentamente queste queste questioni si tratta di Giuseppe Guastella del Corriere della Sera e primo di Nicola del fatto quotidiano e lo faremo con il procuratore capo della Repubblica dell'Aquila Cardella il 12 invece è un altro momento importante dedicato all'informazione alla comunicazione più in generale alla storia comunque contemporanea e riguarda il genocidio degli armeni l'Abruzzo ha un piccolo primato per quanto riguarda la formazione obbligatoria quasi tutti i giornalisti dice il presidente dell'ordine Stefano Pallotta sono in linea con i crediti diciamo che il 2015 è stato l'anno decisivo abbiamo messo in cantiere circa 80 eventi a livello regionale e probabilmente nel 2016 questa cosa si ridurrà non solo perché i colleghi abruzzesi la maggior parte sono in regola con i crediti formativi e questo se non è un primato a livello nazionale comunque pone la nostra regione ai primi posti per quanto riguarda la formazione ma soprattutto perché il Consiglio nazionale ha approvato adesso un nuovo regolamento che consente per esempio di acquisire tutti i crediti formativi online è il giornalista Maurizio Di Fazio il vincitore del premio Polidoro giunto alla 14esima edizione con l'articolo pubblicato sull'Espresso Online il dolore di quei pazzi del mondo di sotto il secondo premio va ad Andrea Rapino per l'articolo sul quotidiano il centro dal titolo quella combine tra Rosburgo e Cerbo che spaccò il fascio terzo premio invece a Francesca Rubèo con il servizio televisivo su Antenna 2 i fluti di Toscanini menzioni speciali ai giornalisti Fabio Sciarra e Giorgio Dorazio il premio alla carriera va invece a Franco Farias la cerimonia di premiazione si terrà l'11 dicembre alle 17 nell'auditorium Sericchi della Carispac il calcio di Lega Pro brucia ancora la sconfitta dell'Aquila Calcio che ha incassato tre gol dal Siena lo scorso venerdì per il direttore sportivo Alessandro Battisti si tratta di uno stop legato soprattutto ad errori individuali che però non deve vanificare quanto di buono fatto vedere finora Giorgio Alessandri una sconfitta che fa male non solo per il risultato ma anche per le ingenuità che hanno condannato al cospetto di una nobile decaduta come il Siena un'Aquila Calcio volenterosa e chi ha interrotto in Toscana un'importante striscia dei risultati positivi a pesare come spiega anche il DS Battisti gli errori decisivi che hanno regalato ai bianconeri due rigori e che hanno vanificato gli sforzi dei ragazzi di mister Perrone che dopo lo svantaggio erano riusciti a tornare in carreggiata pareggiando con Piva non è che uno si rabbia perché gli errori si fanno in Serie A ma soprattutto se non ci sono errori le vanno di definire le punte 0-0 quindi penso sia pure una cosa abbastanza normale però la rabbia viene perché noi non non ci possiamo permettere soprattutto in un momento del genere disattenzione che possano pregiudicare il risultato e i punti che per noi sono determinanti eppure in dieci l'Aquila ha retto bene il campo sfiorando addirittura il pareggio prima di capitolare sul 3-1 a causa di un gol preso nel finale con il più classico dei contropiede No dal punto di vista del gioco no perché avevamo tenuto bene soprattutto all'inizio la loro naturale vehemenza dopo il cambio dell'allenatore giovane in casa dopo una sconfitta quindi sapevamo che dovevamo tenere bene le loro sfugliate ma sinceramente avevamo contenuto molto bene e anche dopo aver dovuto essere passati in svantaggio credo che la squadra abbia sicuramente fatto una buona prestazione sia nella seconda metà del primo tempo che nel secondo tempo anche in 10 credo che la squadra abbia dimostrato di avere la possibilità di giocarsela con tutti alla grande peccato per il risultato però quando è giusto che quando si sbaglia si baghi All'orizzonte poi c'è il mercato con la società che ha le idee chiare e che non cambia obiettivi alla luce della sconfitta di Siena Ma il mercato non è che cambia a seconda della sconfitta o della vittoria o della buona prestazione o della cattiva prestazione noi abbiamo le idee chiare vediamo un attimino tra una quindicina di giorni quali considerazioni fare E l'Aquila Calcio il prossimo mercoledì alle 17 nell'editorium Sericchi della Biper presenterà il calendario ufficiale si tratta di un progetto realizzato da 12 fotografi aquilani con i giocatori dell'Aquila Calcio che si sono calati da bravi attorni nelle scene scelte dai fotografi per loro hanno partecipato ad alcuni scatti anche i calciatori delle giovanili dalla Lega Pro scendiamo al calcio di serie D pareggio di rigore tra Miternini e Avezzano nel derby al comunale di Scoppito terminato 1-1 e presidiato dalle forze dell'ordine per fortuna tutto è affilato liscio non ci sono stati contatti tra le tifoserie Daniela Fasanella pareggio di rigore 1-1 tra la Miternina e l'Avezzano probabilmente la divisione della posta va stretta ai giallorossi scoppitani visto che Torbidone si è fatto parare un calcio di rigore sullo giro a zero e poi nel finale del primo tempo Davino avrebbe parato il tiro di D'Alessandris quando la palla aveva già superato la linea di porta per la cronaca all'undicesimo la Miternina conquista un calcio di rigore Diaie colpisce con un braccio la punizione dal limite di Torbidone sul dischetto si presenta lo stesso Torbidone ma il suo tiro è deviato in angolo da Davino al ventesimo ancora la Miternina con Terriaca che sfiora il palo al ventiduesimo si vede l'Avezzano uscita avventata di schina ma il pallonetto di Bittai non ha fortuna perché di Ciccio è bravo a liberare al trentasettesimo l'arbitro concede il calcio di rigore all'Avezzano per l'atterramento in area di Bittai ad opera di Gizzi Bisegna realizza il primo tempo si chiude con un giallo in area marsicana il tiro di D'Alessandris viene parato da Davino quando la palla ha superato la linea di porta per l'arbitro non è gol nella ripresa la Miternina conquista un altro rigore al quinto per un fallo di Felli questa volta Torbidone non sbaglia al ventottesimo la Miternina perde uno dei suoi migliori giocatori Petrone si infortuna alla spalla e viene sostituito da Franco al trentaseiesimo l'Avezzano si rende pericoloso con un colpo di testa di Iommetti su cross di Bisegna la Miternina crea qualche grattacapa agli ospiti al quarantunesimo ma il colpo di testa di Terriaca è debole il rugby l'Aquila nel campionato di eccellenza vede allontanarsi sogni di salvezza dopo la sconfitta interna con il Piacenza un'altra squadra che punta alla permanenza nel massimo campionato italiano in Serie A invece sorride la Gran Sasso Rugby sentiamo sorride solo la Gran Sasso Rugby tra le squadre brussesi impegnate nei campionati più importanti della palla ovale il 15 allenato da Rotilio dopo la pausa della scorsa settimana sbanca la capitale vincendo 20 a 12 in casa del Cus Roma allenato dall'aquilano Andrea Cococetta gli abruzzesi conquistano anche il punto bonus grazie alla prestazione della squadra impreziosita dalle tre mete sulle quattro complessive messi a segno dal flanker Andrea Lofrese lo scorso anno in forza all'Aquila Rugby e parlando di eccellenza proprio i Nerloverdi non ce l'hanno fatta nel match di sabato ad imporsi contro il Piacenza che supera 25 a 22 l'Aquila sul campo del Fattori in quello che era considerato da molti un vero e proprio scontro salvezza ricordiamo che due anni fa furono proprio l'Aquila e Piacenza a giocarsi a Parma alla finalissima per tornare in eccellenza con gli aquilani che allora conquistarono la vittoria sabato nonostante il forcing finale ed una meta annullata negli ultimi minuti di gioco i ragazzi di Mercier non sono riusciti nell'impresa e rimangono ultimi in classifica ad un punto grazie all'annullamento della penalizzazione concordata venerdì scorso dalla Corte Sportiva d'Appello Federale in Serie B l'altro fanalino di coda l'Avezzano è uscito sconfitto dal campo di Civitavecchia capolista del Girone 4 che si è imposta con un sonoro 37 così come il Paganica è stato sconfitto 37 a 17 dalla Capitolina l'attenzione è tutta rivolta a domenica quanto in cartello ci sarà proprio il derby salvezza tra Paganica ed Avezzano con lo sport termina il nostro telegiornale io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito vi invito a rimanere su TV6 per la consueta programmazione arrivederci per la consueta